Ieri dinanzi al GIP del Tribunale di Avellino Vincenzo Landolfi si è svolto il processo per la morte di Patrizia Marro, la donna di Cervinara, morta per un investimento lo scorso anno nel giorno di Pasqua. In seguito al grave incidente avvenuto il 26 marzo dello scorso anno, Giovanni Sepe è uno dei primi imputati sul territorio nazionale a rispondere di omicidio stradale, visto che solo il giorno prima della tragedia era entrato in vigore il nuovo articolo 589 bis del Codice Penale. La difesa di Sepe, rappresentata dagli avvocati Dario Vernetiello del Foro di Napoli e Valeria Berrusio del Tribunale di Avellino, persistendo nell'intenzione di agevolare il più possibile le vittime, ovvero i familiari della donna sposata e madre di una figlia, ha chiesto preliminarmente al giudice per le indagini preliminari di ammettere la citazione in giudizio del responsabile civile, ovvero la compagnia assicurativa del veicolo coinvolto nell'incidente che portò alla morte la signora Marro e successivamente ha formulato richiesta di definire il processo con le forme del giudizio abbreviato. Il GIP Landolfi ha accolto le richieste della difesa di Sepe ed ha ammesso il giudizio abbreviato e disposto la citazione in giudizio del responsabile civile. Il processo proseguirà il 28 febbraio 2018, data in cui è prevista la discussione degli avvocati e la lettura della sentenza.